La caira le piatte, alla feilandia Il tuo letto è da bagno Gabinetti Il signor, non mi ricordo più il nome, il produttore americano, un grande attore Lo sa che tutti sono esosiati di lei, lo sa che tutti vogliono fare il film con lei Diamo il benvenuto al salvatore del cinema C'è qui un produttore americano, il signor Spencer Meredy Il quale ha deciso di iniziare la produzione in Italia proprio con lei Bisogna trovarlo assolutamente a costo di girare tutta la notte